Speranzicola Penso sia una 85 12 89 87 Fiamme ricordo anche questo Novantesimo 89 Mi ha messo una Suazzo Il primo Basconse Speranzicola Wow A parte che non so ne che coloro Cioè sono male appena coloro la mia ragazza quindi Però mi sa Agosto Luca Agosto 28 E' di San Gavino ma San Gavino Vai Visto che sbagliato la domanda sul murro non meno a murro Grazie a tutti